Noi ovviamente non è che ci prendiamo qua, sono state parte delle attività che ci hanno permesso all'interno dei vari anni in cui abbiamo operato di arrivare a questo punto, ma noi ovviamente vogliamo andare oltre e cioè per quest'anno vorremmo fare tre fondamentalmente iniziative importanti e non so se ci riusciremo, però l'importante è provarci, poi vedremo cosa riusciremo a fare. Allora sulla base proprio di questo studio che è stato fatto, l'idea che ci è venuta in mente è proprio quest'estate mentre studiavamo insieme, perché poi ovviamente era uno studio sul campo, tutti stavamo studiando, noi come associazione che davamo il supporto però in realtà pure non stavamo studiando sulle carte del cadastro di Gregoriano, per cui attraverso dei rilievi sul quadro del Ciocchetti che è esporto alla Rocca dei Borgia abbiamo visto che per esempio alcuni tracciati all'interno di Camerata non sono quelli attuali, ma in realtà i vecchi tracciati delle strade interne di Camerata non ci sono. Allora l'idea che ci è avvenuta per esempio come associazione è di dire, va bene, noi quest'anno non abbiamo fatto il campo internazionale perché pensiamo di aver raggiunto i vari obiettivi, invece no, noi l'obiettivo che ci vorremmo l'anno prossimo è proprio sulla base di questo lavoro, proprio sulla base del cadastro Gregoriano che abbiamo ristudiato, l'idea è quella di fare un campo internazionale di volontariato per riaprire i sentieri originali presenti nel cadastro Gregoriano, in modo tale che poi con opportune cose metteremo degli gattelli, metteremo le vie, così come proprio è scritto nel cadastro Gregoriano, quindi metteremo la via di Santa Croce, la via della Chiesa, la via stretta, la via larga, insomma tutte le varie nomi che emergono appunto dal cadastro Gregoriano e che in qualche maniera cominciano a prefigurare diciamo quell'ipotece che noi abbiamo da tanto tempo, che è quella di creare una sorta di museo a cielo aperto che funga da attrazione turistica per questo nostro territorio e noi sappiamo che l'attrazione turistica poi a sua volta porta a gente, porta alla possibilità di poter aprire delle attività economiche, che possono essere bed and breakfast, che possono essere agridurismi, che possono essere ristoranti, che sono amministrazioni e così via e quindi il campo internazionale che vorremmo fare quest'anno verterà su questo obiettivo, contemporaneamente e non so se ci riusciremo, però questo poi, quindi diciamo questo sta alla nostra portata perché abbiamo già fatto due campi internazionali, quindi voglio dire sta nelle nostre possibilità di fare il terzo, gli obiettivi ce li abbiamo, oltre a ripulitura e la manutenzione del sito che purtroppo bisogna dire le cose come stanno, quest'anno il parco ha dato la disponibilità di fare questa manutenzione, quindi il taglio dell'erba che succeva, però purtroppo dobbiamo registrare da parte del parco, diciamo purtroppo uno spreco dei soldi pubblici che noi come associazione non ci siamo sentiti di appoggiare, perché? Perché nel momento in cui al parco noi chiediamo signori ci servono decespugliatori e falcetti, insomma se vengono quattro persone con un decespugliatore, significa che noi abbiamo tre persone che stanno ferme e una persona con il decespugliatore, che ovviamente più di tanto può fare, per cui alla fine che è successo? È successo che per tre giorni sono venuti con i del parco, dopo di che abbiamo detto signori scusate, non venite più, è inutile che venite perché sinceramente io a essere complice dello spreco dei soldi pubblici non me sta bene e ce lo siamo fatti da soli insieme, diciamo all'università che ha messo a disposizione una persona che ci ha dato la mano e quindi ci siamo messi due o tre persone noi con un paio di decespugliatori in un parcetto e abbiamo fatto il resto da soli. Quindi quest'anno probabilmente questa cosa non ci sarà bisogno perché se facciamo il campo internazionale ci vencerà il campo internazionale, però ecco non ci vate a sprecare i soldi in questa maniera, senza contare che poi la terza giornata sono venuti in cinque persone con due macchine che non si capisce con quale logico, vabbè, chiusa parentesi, parco dei molti divini. Per quanto riguarda il discorso del campo internazionale questa è la nostra ferma attenzione farlo. Dopodiché vorremmo lanciare e rilanciare l'idea di fare una cosa molto importante, cioè proprio in virtù di quello che ha detto Paolo, che è comunque l'idea che ci sta bazzicando da un sacco di tempo intorno alla nostra mente, cioè quella di fare in modo che nel momento in cui non siamo lì, il visitatore ha la possibilità di essere guidato all'interno del paese. Allora questo come si può fare? Allora questo si può fare dal punto di vista tecnologico, e qui purtroppo esce fuori la mia vocazione informatica, insomma che è la mia devianza informatica, è che uno mette un piccolo server a disposizione, geolocalizzato, per cui la persona con uno smartphone attivato in wifi, praticamente nel momento in cui sta camminando dentro camerata, automaticamente un'applicazione, un'app, come si dice in gergo, che può essere nei vari sistemi operativi, ha la descrizione del punto in cui sta e magari anche con la ricostruzione tridimensionale del punto in cui si trova. A questo punto l'esperienza del visitatore, dal punto di vista proprio della fruizione del sito, diventa molto più coinvolgente e sicuramente molto attraente, non solo a livello di chi effettivamente poi va dentro il sito, ma soprattutto a livello di pubblicità verso l'esterno, perché a quel punto noi dovremmo pubblicizzare come camerata una sorta di museo a cielo aperto con visione tridimensionale georeferenziata della visita, quindi potremmo prospettare effettivamente un modo di usufruire un sito archeologico sicuramente in termini innovativi e di attrazione globale. Per far questo però c'è ancora molto a lavorare, c'è molto a lavorare, sicuramente non è solo sufficiente i sforzi di volontariato che noi stiamo facendo come assenzione di tutti coloro che intorno a noi, insieme a noi stanno facendo queste cose, ma però dovremmo raccogliere un po' di soldi per fare queste cose. Se non altro noi ci siamo concentrati su due obiettivi quest'anno, perché sono comunque fondamentali. Il primo obiettivo è quello di iniziare i scavi archeologici per avere ulteriori informazioni sul sito stesso che permettono una maggiore informazione sul... Paolo già ha fatto un prospetto dei cosi e tutto quanto, quindi già abbiamo un'idea di massima su come partire. L'altro l'oggetto che stiamo dicendo tanto tempo però fa parte di quello che vorremmo fare, vedremo se ci riusciremo, però è una scommessa, come tutte le scommesse, se possono vincere, se possono perdere, però l'importante è crederci e scommettere su quello. Magari non ci riusciremo per il prossimo anno, però magari tra due anni, coinvolgendo tutte le energie possibili e immaginabili, magari riusciremo pure a farlo. È quello che proprio sul lavoro che è stato fatto quest'estate, fare proprio un progetto di ricostruzione globale e tridimensionale di tutto l'abitato di Camerata Vecchia, proprio nella logica che dicevamo prima e che in parte diceva Paolo e in parte che dicevo io. Su questo l'idea che ci sta venendo in mente, il sindaco sicuramente ne sa più di me, considerando che le sordi ce ne stanno pochi, l'idea che ci è venuta in mente è che proviamo a fare un progetto di crowdfunding o di fundraising che dir si voglia, cioè di raccolta fondi su questa cosa, utilizziamo le piattaforme internet adibite a questa cosa e cerchiamo di allargare in maniera virale la donazione via internet per quanto riguarda questo tipo di progetto. All'interno di questa donazione via internet potremmo aggiungere dei sponsor privati che si vorranno aggiungere successivamente, però diciamo che l'idea è quello, stabiliamo degli obiettivi, gli obiettivi sono due, iniziare gli obiettivi archeologici e la ricostruzione tridimensionale. Il budget che più o meno ci siamo messi in testa sta intorno ai 12.000 euro, più o meno. Allora, l'obiettivo è vediamo che se da qui a 8 mesi riusciamo a raccogliere 12.000 euro per fare questi progetti. Quindi questa è la scommessa e la botella. Allora, almeno uno, sì. Poi vedremo se riusciamo a raccogliere 12.000 euro per fare tutti e due, se no ne faremo uno solo, però magari ne faremo uno quest'anno o uno l'anno prossimo, vedremo, però l'importante è capire la strada è quella e vogliamo andare lì. Ecco, l'idea è molto chiara perché il nostro progetto, come ho detto all'inizio, è che vogliamo fare di camerata vecchia una sorta di museo a cielo aperto, in cui adesso è gratuito. Un domani, se riusciremo a portare tanta gente, diventerà occasione per farci lavorare dei ragazzi, delle persone che poi debitamente qualificati dal punto di vista della conoscenza, dell'illustrazione del posto, possano dare un sostegno e anche un reddito per quanto riguarda i ragazzi stessi per questo territorio. E quindi invertire quel processo, diciamo, di impoverimento che vogliamo, o comunque di migrazione, di spopolamento che purtroppo questi paesi sono soggetti, insomma, di questo versante. Quindi ecco, queste sono due delle tre delle iniziative, appunto, il campo del lontario internazionale, scavi archeologici e il discorso della ricostruzione del dimensionale. Poi c'è un altro discorso che per noi è molto importante e che riguarda, invece, una cosa che purtroppo è una cosa che noi siamo fissati, lo sviluppo di questi territori, non intesi come Camerata e basta. Noi dobbiamo anche avere la visione di un territorio vasto, Camerata da sola, probabilmente non ci avrà mai le forze per poter allargarsi. Allora, noi dobbiamo trovare il modo di individuare questi territori a livello globale. L'idea che noi abbiamo sempre portato avanti in questi periodi, insomma, in altre iniziative, quest'anno l'abbiamo enfatizzata di meno, però ci sta tutta dentro, è quella di individuare queste terre, queste zone in cui abitiamo. Perché noi diciamo le carne e le pesce, come il Trinitore, dice ma poi dove state? Alla comincia di Cavaliere, al confine con l'Abruzzo, Cavaliere, insomma, gira che te li gira, non si capisce se sei carne o se sei pesce. Allora... Però se è il Camposetto è il più conosciuto, perché con il fatto di Trinitale e dei di Trinitore, insomma, però, insomma, non è che potevamo passare. Dicendo dove tu abiti, magari vicino a Camposetto dove hanno fatto il Trinitore, insomma, va bene, non mi sembra il top, però ci sta, ovviamente ci mancherebbe. Dopodiché l'idea che noi portiamo anche a tanto tempo è il discorso di individuare questi territori come le terre degli Equi. Perché le terre degli Equi? Perché in realtà le terre degli Equi evocano sicuramente una storia più antica, la storia antica, più antica degli antichi romani, perché gli Equi c'erano prima, i romani. Perché le terre degli Equi è un'entità che definisce questo territorio, ma proprio per la tua definizione comunque non è proprio definito al 100%, diciamo che è un territorio che va da Tivoli fino al Cicolano, più o meno, e che travalica i confini attuali, così amministrativi. Perché negli Equi... E' intervigionato. Eh sì, c'è pure Ciazzolano, che non è del Lazio. Quindi se noi diciamo terre degli Equi e pubblicizziamo terre degli Equi, andremo a pubblicizzare una zona larga all'interno della quale non ci rientrano il Lazio, la Bruzzo, la provincia di Roma, la provincia dell'Aquila, la provincia di Riedi e così via, ma i paesi che effettivamente stanno in questa zona che, specialmente per quanto ci riguarda noi, che è un problema più grosso per noi, è quello di individuarci come i dere degli Equi che stanno all'interno della Valle del Fioio. Perché? Perché adottando un meccanismo di logica, di localizzazione, allora è senza perdere la propria identità, che ricordiamo che è un'identità millenaria, cioè se i paesi stanno così, e Paolo dal punto di vista storiografico nella sua tesi l'ha spiegato molto bene, è perché dietro c'è una storia, storia fatta da confini che arretravano, avanzavano, diminuivano, si univano e così via, nell'arco dei secoli. Allora, non è che noi arriviamo adesso e zeriamo la storia, però dobbiamo tenerne appunto conto per cercare di prefigurare un percorso che sia differente rispetto per il futuro e quindi le terre degli Equi e la divisione in valli è quella che in qualche maniera permette da una parte preservare il proprio localismo che è comunque importante e preservato, dall'altra indicare un'entità sovracomunale, sovracittadina che permette appunto come brand per essere visibili, per poterlo vendere, poterlo pubblicizzare, per poterlo propagandare, essere estremamente efficace per una campagna di marketing e di promozione. Ovviamente questa proposta non è che uno si è inventata così, abbiamo fatto uno studio, abbiamo visto, osservato come hanno fatto in altre regioni, l'esempio che c'è stato molto aiuto, è stato quello, l'esempio del Trentino Alto Adige, il Trentino Alto Adige è quando propaganda i propri agriturismi, che fa? Propaganda il Trentino Alto Adige, tu dove sei stato in Trentino? Dove sta il Trentino? Vai a vedere, è la zona immensa, poi all'interno del sito del Trentino ci sono le varie valli, quindi c'è la valle in cui stanno uno, due, tre, quattro, cinque comuni, l'altra valle che c'è stanno due, tre, quattro, cinque comuni e così via, in modo tale che ognuno ha la propria identità dentro la propria valle e dentro il proprio comune, però a livello di brand che viene pubblicizzato è il Trentino, quindi tutti conoscono il Trentino, però nessuno conosce le singole valli, quindi quando io decido di andare in Trentino perché tutti conoscono il Trentino, poi vanno a vedere e lì uno sceglie la valle, magari a casa, magari perché la conosce e così via. Ecco l'idea è questa, lanciamo il brand Terre degli Egui e poi organizziamoci in valli in cui ogni valle può far sinergia per poter promuovere la propria... come si fa una cosa di questo genere? L'idea nostra, ovviamente utilizzando gli strumenti che abbiamo adesso, per quanto riguarda l'attuale programmazione del PSR 2014-2020, c'è la possibilità di creare dei lag, diciamo che è lag, lag sta per Local Action Group e sarebbe più conosciuto come GAL, allora perché mi chiamate GAL che tutti conoscono il GAL? Perché noi vogliamo comunque segnalare un elemento di discontinuità rispetto al passato, il GAL è passato, perché? Perché il GAL fino adesso sono stati sempre un elemento che dall'alto veniva calato, all'interno dei territori proprio per spendere i soldi in maniera estremamente discutibile. Invece le normative europee in questo senso le chiamano lag, Local Action Group e dicono espressamente che l'approccio alla costituzione di un lag deve essere, come si dice in inglese, bottom up, cioè dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso, non devono le persone da Roma, i vari partiti che stanno a Roma e decidere come fare il GAL in queste zone, no? Devono essere gli attori locali e soprattutto le imprese, i cittadini, tutte le associazioni, no? E ovviamente i comuni, la pubblica amministrazione, le banche, le associazioni di categoria e chi più ne ha più ne metta che dal basso sottorganizzano e costruiscono il lag per prefigurare uno sviluppo, diciamo agricolo, però